Sono Rossella Fasano di WPF, azienda italiana di catemobili per catemigine. Abbiamo conosciuto Tueppi quasi per caso ed è stata more a prima vista. Difficile all'inizio perché è un approccio completamente nuovo alla gestione delle email, ma con il valido aiuto dello staff di Tueppi e i vari tutorial, siamo riusciti abbastanza velocemente a capirne e ad apprezzare la validità e l'utilità, fino a non riuscire più a farlo nemmeno. Tutto a parte dal mail, dalla visita in sede da parte del cliente o dalla sua telefonata. E da lì si scatenano vari automatismi ed eventi a catena, che nel caso specifico di WPF comprende al momento se è il felice utilizzatore di Tueppi, che ora con lo scopo comune di trasformare il cliente potenziale in un cliente reale, riescono ad interagire fra loro portando avanti le pratiche del cliente, completando i vari incarichi, apprendendo vari progetti, riuscendo senza alcuna difficoltà ad essere informati e aggiornati su tutti gli avanzamenti. e questo senza dover perdere tempo per scriversi, per chiamarsi, per cercarsi, perché qualsiasi dato utile, visibile e contemporaneamente a tutti. Quindi anche un valido miglioramento della gestione del tempo. Mi sento di poter tranquillamente concludere che lavorare con Tueppi è quasi come giocare. Grazie.